Tre progetti cripto di cui non vi parla quasi nessuno da seguire nel 2022. Sarebbe infatti troppo facile se dietro questo video iniziassi a parlarvi di CRO, di BNB, di Ethereum, di Polkadot, di AVAX, di Luna e di tutti quei progetti in trend che già sappiamo essere molto validi e che possono essere comunque un buon investimento. Lo scopo invece di questo video è quello di portarvi all'attenzione tutti quei progetti, anzi non tutti ma una parte, tre fondamentalmente progetti che possono essere molto interessanti ma che al momento stanno passando in sordina, cioè ve ne parlano poco o addirittura per nulla. L'ultimo di questi progetti è addirittura una vera e propria chicca perché non ho sentito quasi nessuno parlarne e ve lo dirò solo alla fine di questo video, quindi seguitemi per intero. Vi ricordo tra l'altro che questo video è stato deciso da un sondaggio che ho fatto su Instagram, quindi seguitemi, trovate il link sotto in descrizione e insomma iniziate a followarmi perché lì pubblico dei contenuti extra più immediati. Ciao a tutti, io sono Alex, in questo canale parliamo di libertà finanziaria, ti invito a lasciarmi un bel like se ti piacciono questi contenuti, ragazzi è gratis, non costa nulla, arriviamo almeno a 150 like così capisco che questi contenuti vi piacciono e ve ne porto altri. Se sei nuovo iscriviti al canale, attiva la campanellina perché in questo canale porto veramente tante cose. Ovvio è il mio canale, quindi penso che sia figo, il più bello di tutti eccetera, però veramente penso che ci siano dei contenuti molto interessanti, quindi seguo. Un'ultima cosa, niente di quello che dirò va considerato come un consiglio finanziario, lo scopo di questo video è solamente fare un brainstorming insieme, quindi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se c'è qualche altro progetto che vorreste che analizzi, insomma, fate voi. Allora, per andare a prendere uno dei progetti di cui vi voglio parlare principalmente, dobbiamo scendere un po' in posizione su CoinMarketCap, sono su questo sito, il principale sito di quotazioni per quanto riguarda le criptovalute e lo troviamo qui, in posizione 42. Sto parlando di Helium, HNT, quotato in questo momento, che sto girando il video, a 41 dollari, con una performance del 10% negli ultimi 24 ore, in questo momento Bitcoin sta facendo un bel rialzo e quindi si sta portando, come vedete, tutto il settore dietro, un bel 34% sul settimanale, ma in realtà questo progetto è cresciuto tantissimo, perché la prima volta che ci ho buttato l'occhio stava intorno al dollaro, quindi chi l'ha seguito, ragazzi, dall'inizio, ha fatto delle performance assurde e qui, ragazzi, stiamo parlando di un anno fa, ok, il prezzo stava intorno ai 2 dollari, 1,70 dollari, adesso siamo a 41 dollari, quindi una crescita importante, ma vi voglio spiegare perché, secondo me, questo progetto potrebbe crescere ancora e potrebbe essere molto interessante nel 2022. Una market cap in questo momento di 4 miliardi è di tutto rispetto perché ci porta in rank 42, ma in realtà potrebbe veramente valere molto di più, ed è uno di quei progetti di cui ho sentito veramente poco parlare, soprattutto su YouTube Italia. Ilium ha una sua blockchain, ha fatto una sua minet ed esce, si può dire, completamente da tutti quei targeting trend che in questo momento stanno governando il mercato, perché non è proprio DeFi, forse in parte, possiamo dire, non c'entra nulla con il metaverso, ha una sua blockchain e non è sicuramente col mondo degli NFT. Però perché in realtà potrebbe essere molto molto interessante? Perché sta portando un user case, un user ability anche, che potrebbe essere importantissima per tutta la blockchain, per tutte le blockchain, perché sta portando un'innovazione tecnologica. Infatti Ilium si quota, diciamo, per aver inventato intanto un nuovo sistema di mining, ma poi ha anche una rivoluzione wireless a 360 gradi. Infatti lo scopo del progetto, semplificandolo al massimo, mi perdonerete tutti gli informatici in ascolto, è quello di portare una nuova connessione wireless basata su blockchain, che ci consente anche non solo di avere quindi una connessione decentralizzata, open, a tutti e gratuitamente, ma anche di avere una nuova forma di guadagno e di essere ricompensati minando appunto HNT. Quelli che vedete qua sullo sfondo sono proprio i router, cioè gli aggeggi, i router, veri e propri router wifi, che ci consentono di poter minare questo progetto. E conosco tante persone che si stanno buttando in questo business. Un router come questo costa tra i 400 e gli 800 dollari, e ci dà la possibilità di settarlo in varie parti, in varie località, ok, vicino a noi, di creare appunto una connessione wifi e di essere poi ricompensati minando Helium. Ovviamente l'ho semplificata al massimo, il progetto è piuttosto complesso da comprendere a 360 gradi, per questo vi invito magari a fare i vostri approfondimenti. Però, insomma, vi faccio già sapere che è molto molto interessante. Ne ha parlato ovviamente Forbes, ne ha parlato il Time, ovviamente tutte le testate cripto. Hanno già installato 436.000 hotspot, ma sono convinto che questo numero come minimo duplicherà nel corso del prossimo anno, portando una migliore, ovviamente, usabilità del token, una maggiore sicurezza della sua blockchain e di conseguenza una crescita di tutto il suo ecosistema. Come avrete intuito, si tratta di qualcosa di estremamente innovativo, di estremamente tecnologico e anche direi rivoluzionario. Qua vediamo il Core Technologies, quindi il core delle loro tecnologie, abbiamo il token, la Proof of Coverage e poi il Loom LongFi. Tra i vari investitori troviamo diversi venture capitalist che hanno sostenuto il progetto fin dall'inizio e se vogliamo sempre all'interno del loro sito possiamo anche andare a vedere quello che è il team, che se andiamo poi ad approfondire i vari curriculum sono veramente tutti ingegneri e persone di alto rispetto e di un'altissima credibilità anche a livello imprenditoriale. Il progetto avanza in sordina, proprio perché non tutti ne parlano, non è sicuramente di moda, ma ha già fatto una crescita importantissima, portandolo appunto a 41 dollari da un dollare e mezzo circa di un anno fa. E adesso andiamo a vedere, siccome a me piace giocare, come potrebbe crescere ancora questo progetto se dovesse per esempio raggiungere la top 20, prendere magari il posto di Algorand, Litecoin, comunque arrivare in questa zona. Ecco che se dovesse raggiungere con la market cap totale di adesso la top 20, Ilium già farebbe un per due e mezzo da dove è ora, arrivando a 104 dollari. Ma siccome io sono abbastanza positivo su questo progetto e voglio giocare ancora un po', andiamo così, giusto per sfizio, ovviamente ragazzi non vuol dire nulla, non vuol dire che ci arriverà mai. Ma mettiamo che anziché la top 20 arrivi in top 10. Quale potrebbe essere il range di prezzo di Ilium? Pensiamo se dovesse arrivare insieme a Luna, insieme a Polkadot in queste zone, ecco che tra i 145 dollari ai fronti dei 41 dollari di ora potrebbero essere un target raggiungibile. E stiamo sempre parlando della stessa market cap di ora, cioè diamo per scontato che la market cap di ora non vada ad aumentare. Ovviamente potrebbe anche diminuire se dovesse arrivare un bear market e tutti questi ragionamenti ovviamente andrebbero a saltare. Comunque fatemi sapere voi che cosa ne pensate e magari possiamo approfondire questo progetto con un video dedicato. Siccome il video sta diventando lunghissimo e non voglio fare un video troppo lungo, vi vado a parlare subito del secondo progetto, cercherò di essere un pochino più rapido. Sto parlando di Curve. Curve ne ha parlato ovviamente Luca dei Crypto Gateway, che Cito, ovviamente il più grande youtuber delle cripto, e ne ha parlato poco fa, ma in realtà in Italia ne parlano comunque in pochi. Questo è un ottimo progetto da tenere sotto controllo perché è ovviamente il DEX più grosso in questo momento che gira sulla DeFi, quella che sta girando più volumi e stanno implementando e sviluppando diverse cose interessanti. Stiamo vedendo ovviamente un 2 miliardi di cap, quindi assolutamente una cap di tutto rispetto, ma che potrebbe sicuramente aumentare. In questo momento la troviamo a rank 63, quindi in 63esima posizione, ma nulla vieta sinceramente che possa arrivare molto molto più in alto. Questo è sicuramente un progetto che vorrei tenere sotto controllo. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, però la DeFi, ecco, sicuramente è un trend, è il macro trend, probabilmente sarà il trend di tutto il sistema cripto e se dovesse soprattutto svilupparsi, perché tutto gira intorno a Ethereum, con l'Ethereum 2.0, Curve, se dovesse mantenere la sua leadership, potrebbe veramente darci delle belle soddisfazioni. E ora arriva il momento della chicca, per chi mi ha seguito fino alla fine, parliamo di Clover Finance. Clover Finance è un progetto che sto studiando, perché ho partecipato alle aste su Polkadot, perché è un progetto che gira nell'ecosistema di Polkadot, ed è molto molto interessante. Come vedete siamo scesi di rank a 344, quindi aumenta di conseguenza il rischio, ma anche il potenziale ritorno. Come dico sempre ragazzi, non è necessario andare chissà dove a cercare questi progetti, non bisogna per forza scendere fino alla 344esima posizione per trovare progetti con cui fare degli ottimi gain, ma in questo caso fermarsi e dare un'occhiata potrebbe essere interessante. Se prendiamo il grafico, vedete, di lungo periodo, in realtà il progetto è abbastanza laterale, addirittura ha perso un po' di valore rispetto a poco tempo fa, prima stava intorno al dollare 8 e ora stiamo a 81 centesimi, però c'è stato anche un calo generale un po' di tutto il settore. Ma perché penso che questo sia un progetto da tenere sott'occhio? Appunto, il primo discorso era la market cap, il secondo discorso è che sta girando su Polkadot, e il terzo discorso è che si sono aggiudicati le aste di Polkadot. è stato forse l'ultimo progetto a riuscire a partecipare e a vincere uno slot sulle aste, sulle parachain di Polkadot, e quindi a tutti gli effetti adesso Clover ha la sua possibilità, ha la sua chance di svilupparsi e di far valere il suo progetto. Ma che cos'è Clover? Facciamo rispondere a loro. Clover is everything. È un layer 1 che gira su Polkadot, ha ovviamente una smart contract platform, ed è una multichain DeFi Hub, una crosschain wallet, insomma sta sviluppando il mondo DeFi, possiamo dire, ma non solo per quanto riguarda il futuro di Polkadot. Allora, qua bisogna fare una premessa. Ovviamente se si investe, se si crede in Clover Finance, si deve necessariamente credere anche in Polkadot. Siccome io sono molto positivo su DOT, lo sapete, credo sia uno dei progetti più importanti da seguire nel 2022, Clover potrebbe essere una succorsale da tenere in considerazione. Non è l'unica, ce ne sono tante altre interessanti, però sicuramente il fatto che sia piccolina, il fatto che sia strutturata e che sia in sordina in questo momento mi fa accendere dei riflettori. Perché? Perché tanti altri progetti su DOT sono molto in hype, e questo sicuramente è positivo perché a livello speculativo quando un progetto in hype va seguito. Ma ricordatevi che i soldi veri si fa quando si riesce a beccare quel progetto che in questo momento non è conosciuto, non è tanto seguito, ma ha un ottimo potenziale. Anche in questo caso voglio fare come su HNT, e andiamo a vedere. Allora, Clover in questo momento è fuori dalla top 100, ovviamente non possiamo pensare che arriverà in top 10, mai dire mai, ma insomma cerchiamo di rimanere abbastanza con i piedi per terra. facciamo caso che arrivi in top 100, che riuscisse a conquistare una top 100 magari andando vicino a Wabi Token, ecco che già lo vedremmo a 7 dollari, sempre parlando con la stessa market cap di ora e tutto il resto, sarebbe già un 9 per. Se riuscissimo addirittura ad arrivare ad una top 50, quindi parliamo di una crescita mostruosa, sicuramente arrivando magari vicino a un GRT, mettiamo caso, sarebbe già un 23 per arrivando a 20 dollari. Quindi potrebbe essere una crescita veramente esponenziale a livello di market cap. Questo è un progetto da tenere sotto controllo, il fatto che abbiano vinto l'asta su Polkadot sicuramente, come ho detto prima, dà a loro una chance di sviluppo. Ovviamente questi tre progetti che sono andati a prendere, sono andati proprio a cercarli, a selezionare, ok? Tre progetti un pochino in disparte, di cui si parla meno, ma non vuol dire che sono gli unici, ok? Ci sono tantissimi altri progetti molto interessanti da seguire, però insomma cercare di fare come se fosse uno stock picking, no? potrebbe darci delle soddisfazioni. Vi ricordo che non sono mai consigli finanziari. Sono curioso di sapere voi che cosa ne pensate, quindi lasciatemi un bel like, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Vi ringrazio di aver guardato. Ciao! Ciao!